Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora vi dico subito che mentre sto registrando il video non ho idea di quello che dirò, di cosa farò, non ho idea di come lo intitolerò, quindi vedrò insomma poi quando lo andrò ad editare perché è un video un po' così, in cui chiacchieriamo del più del meno, vi faccio vedere alcune cose. Allora innanzitutto vi faccio vedere un mini mini shopping che ho fatto stamattina, sono stata da Tezenis e ovviamente c'erano i saldi ma io ho comprato due costumi che non andavano in saldo e quindi ve li faccio vedere subito. Allora, ho preso due costumi interi, sapete che da qualche anno a questa parte sono in fissa con i costumi interi perché trovo che vestano meglio la mia figura, poi soprattutto quest'anno sono ingrassata un po' rispetto all'anno scorso, mi vedo meglio con i costumi interi, comunque me la racconto come voglio, mi piacciono semplicemente di più. Allora, ho preso questo che trovo bellissimo perché comunque è super super colorato ed è di quelli che lasciano scoperta comunque gran parte della pancia e della schiena. Mi piaceva il fatto che la mutandina non fosse proprio molto 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 sgambata, vabbè questo è il davanti, o meglio che non fosse troppo, che mi lasciasse troppo con il popò di fuori perché questo, vedete, è una sorta di brasiliana però molto accompagnata, diciamo, sulla zona delle chapette e mi piace tantissimo, mi piaceva la fantasia e ho preso una small e l'ho pagata, l'ho pagato il costume, 19 euro e 99, questi 9 centesimi alla fine, sempre. E poi ho preso lui, ero un po' indecisa per quanto riguarda la fantasia, però quando l'ho provato, l'ho indossato, vedete, infatti, sta bene sempre su tutto il detto, insomma, che la massima, insomma, come la vogliamo chiamare, che non bisogna mai giudicare così dall'apparenza, bisogna sempre approfondire. E approfondendo, quindi provandolo, questo è il costume, ho visto che addosso è una cosa meravigliosa. Allora, sempre su quella tipologia, quindi aperto qui sulla pancia e sulla schiena, sul laterale ha questi due anellini che quindi lo impreziosiscono, lo rendono un po' più grintoso, sempre modellino così a canotta, questo è molto imbottito e fa un seno bellissimo, contrariamente a quello che, diciamo, chiuso a canotta dietro, questo ha i laccetti che vanno allacciati sul dietro. E questo è quanto, questo l'ho pagato un po' di più, perché l'ho pagato, è sempre una small pagato 25,99 euro, e per stamattina con gli acquisti mi posso fermare. Poi, parliamo di un po' di aggiornamenti, un po' della situazione, della situation. Allora, voi dovete sapere che io sto registrando e sono invasa dagli scatoloni, quindi li ho un attimo spostati e mi sono ricavata proprio quest'angolino per non far vedere gli scatoloni. Siamo a buon punto, devo dire, come vi ho detto nel precedente video, noi giorno 8 partiamo, giorno 8 partiamo e stiamo giù, insomma, fino al 9 di settembre, quindi saremo un mese bello abbondante. E tanti e tante di voi mi stanno chiedendo, soprattutto su Instagram, ma non farai più video? Non parlerai più di profumi? Assolutamente non è così! Io non abbandonerò il canale, continuerò a parlarvi di profumi da qui all'eternità, anche perché dovete sapere che in questi ultimi giorni, malgrado tutto, ho fatto qualche acquisto profumoso. E quindi sicuramente ve ne parlerò, il prossimo video sarà su due profumi low cost. Wow! Quindi restate sintonizzati. In ogni caso, ovviamente, quando io scenderò giù dai miei, devo un attimo organizzarmi. In ogni caso, perché non avrò a disposizione nulla profumi, make-up da farvi vedere, se non quello che metterò in un beauty per truccarmi, ovviamente. Cosa vi volevo dire dopo? Quindi mi organizzo, vi farò dei video, o con quello che ho, o semplicemente dei video in cui parliamo, vi racconto, vi faccio vedere quello che mangio, magari faccio un piccolo vlog mentre andiamo al mare. Cercherò, insomma, di trattare altri argomenti nel frattempo, e sicuramente questi tanti altri argomenti faranno parte, diciamo, dei miei video futuri, perché comunque ho intenzione di farvi vedere poi casa, come l'ho arredata, di farvi un home tour. Insomma, tantissime, tantissime cosine che spero vi facciano piacere. Poi, oggi passiamo da un argomento all'altro, eh? Abbiate pietà di me, perché sono totalmente esaurita. Allora, sicuramente mi chiederete che rossetto indosso, perché se fossi in voi io lo chiederei, perché è uno dei rossetti rossi più belli che io abbia nella mia collezione. Infatti ho inscatolato tutto il make-up, ma ho tenuto fuori alcune robine, insomma, che io mi porterò in vacanza. Anzi, vi farò anche un video sul make-up che ho deciso di portare in vacanza. E il rossetto in questione è un rossetto di Kat Von D, questi qui che non mi ricordo come si chiamino, e il colore si chiama Underage Red, ed è scritto Underage Red. È un rossetto fantastico, perché è una semi-matte, quindi un rossetto comunque che non asciuga un colore, un rosso, una punta di rosso, che secondo me sta bene a tutte e a tutti. E quindi, niente, ve lo volevo far vedere e ve lo volevo menzionare. Dopodiché, ieri mi avete visto pubblicare su Instagram un post che ha aperto così un argomento di discussione, che secondo me è molto interessante, sull'acquisto spasmodico compulsivo del make-up. Io vengo da quella situazione lì. Ci sono stati degli anni per me pazzeschi, in cui compravo, 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 compravo. Io ieri ho buttato circa 20 boccette di fondotinta. Perché, avendone troppi, non li ho mai usati tutti, e sono andati a male. Non mi metto in faccia un fondotinta che ha due anni. Quindi, perché poi li apro tutti, li provo, e poi non riesco ad utilizzarli. Ieri, quindi, questo decluttering, questo trasloco del make-up da casa qui a giù, mi ha aperto la mente e mi ha fatto capire quanti, veramente quanti soldi ho buttato via. perché, ok, è una passione, però in quel periodo io rincorrevo tutte le nuove uscite, a prescindere dal canale, a prescindere assolutamente dal canale, perché sapeste di quanti prodotti non vi ho mai parlato. E niente, ho capito che veramente, cioè, no, io col make-up starò ferma da qui a 20 anni, perché sono piena di palette, che non terminerò mai, centinaia e centinaia di rossetti, che non terminerò mai, e ho buttato via tanti rossetti, perché l'odore... Ieri ci ho messo veramente una giornata, perché li ho aperti uno per uno, e stiamo parlando veramente di un migliaio di rossetti. E ho ridotto tantissimo la mia collezione, ho buttato via anche tanti rossetti MAC, che secondo me non erano più buoni, perché l'odore era sgradevole. E questo mi ha fatto riflettere sul fatto che d'ora in poi acquisterò un make-up solo ed esclusivamente quando l'avrò terminato. I prodotti che continuo a riacquistare sono la matita per sopracciglia che porto a termine, il correttore che porto a termine, e i mascara. E mascara, la matita nera per gli occhi, prima anche di matite nere ne compravo 10-20 in una volta, adesso solo quando le avrò assolutamente terminate. Nel frattempo che facevo questa ricerca, ho riempito, attenzione, la maggior parte delle cose le ho buttate, poi mi è venuto in mente, ho detto, ma quasi quasi faccio un video. E ho riempito questo bicchierino di tutti quei prodotti che, aspettate, li mettiamo giù, di tutti quei prodotti che ho detto, ma ero in me quando li ho acquistati? Poi per carità, eh, per i miei standard, per i miei gusti, attenzione, perché sicuramente ci saranno ragazze e ragazzi che indosserebbero queste robe in una maniera incredibile, ma io purtroppo no. Allora, questo forse ve lo feci vedere anche in un video, è un blush di Mulac, che non so neanche il colore, che colore sia, ve lo dico subito, si chiama Ariel, e insomma, io ando vado, perché è veramente una specie di rosa Barbie, fucsia, super acceso, insomma, che poco si adatta alle mie guance, che poi è super pigmentato, tra l'altro, guardate, nuovo, c'è ancora la scritta Mulac, perché alla fine, dai e dai, cioè io non l'ho mai usato, perché mi son resa conto che, oddio cosa ho fatto, stessa cosa, dicasi, per questo blush di Wicon, anche questa era una limited edition, midnight holiday blush, questo 02 fucsia passion, già il nome vi dovrebbe far capire tutto, dove vado io con una roba del genere, ancora ancora, quello all'interno, ma questo, ok, cioè, non è fattibile una cosa del genere, eccolo qua, è così, cioè, non credo che riuscirei, meno male mi sono portata la carta, non credo che riuscirei mai, ad indossarli, ma perché anche sulla mia pelle, secondo me, non stanno assolutamente bene, stessa cosa, dicasi per questo, una vecchia collezione di Yves Saint Laurent, un blush in crema, ma un colore talmente, chiaro, cioè, una cosa che, su di me, proprio, ecco, vedete, cos'ero in grado di fare, quando compravo compulsivamente, no, assolutamente no, non è possibile una cosa del genere, che poi è un peccato, perché sono assolutamente, nuovissimi, ma, non c'è fine al peggio, poi, ho comprato, anche questo rossetto, di Essence, e, scusate, metto sugli occhiali, perché altrimenti, non riesco a leggervi, i nomi, dei prodotti, allora, questo è lo 01, Let the Berry Tales Begin, tra l'altro, credo che sia una limited edition, e, probabilmente, questo prodotto, non si trova neanche più, ed è, questo colore, che, proprio, no, io ormai, che poi, oddio, indossato, non è così terrificante, però io, non, non indosso più, questi, questi colori, quindi, stessa cosa, digasi, per, aspettate, che lo becchiamo, per quest'altro, viola, incredibile, di Pupa, anche questa era una limited edition, degli IM di Pupa, questo, vinaccia, bordeaux, nuovo, perché alla fine, io, comunque, non, non l'ho mai usato, bello, per carità, però non sono più colori, che, con i quali, io, riesco a vedermi, ma, in realtà, la cosa che mi fa riflettere, è che, comunque, io, questi rossetti, li ho comprati, ma non li ho mai usati, e questo è il punto, stessa cosa, dicasi, per questa, NYX Liquid, suede, nella quale, non si legge più, il numero, in questo colore, no, vabbè, ma, scusate, cioè, quasi nero, anche perché, questo poi diventa matte, diventa ancora, ancora più scuro, e quindi, mai usato, mai, mai usato, e con questo, con questo, completiamo l'opera, questo è, un Gossamer Emotion, se non ricordo male, di, ehm, Kiko, credo fosse, una limited edition, e io, forse, sono stata l'unica, ad acquistarlo, perché, dai, no, eccolo qua, bellissimo, eh, per carità, magari, sicuramente, qualcuno lo porterebbe, con lo shalance, rispetto a me, tra l'altro nuovo, lo sto sguocciando, forse, per la seconda volta, però, no, anche no, poi, cos'altro, ho da farvi vedere, qui, cosa c'è, vabbè, questo, ci può anche stare, sono, un amante dei fucsia, ma, questi fucsia, qui, sinceramente, io, non, non, non me li vedo più addosso, tipo, Candy Yum Yum, ehm, sono un po' eccessivi, sono più, adesso, un amante del fucsia, quello un po' più, scupo, scuro, un po' più caldo, stessa cosa, dicasi, per questa, tinta, di Anastasia Beverly Hills, che, cioè, oh mio Dio, è fosforescente, e, non, non mi ci vedo più, nuovissima, mai usata, poi, per esempio, questo ombretto di Shiseido, vi faccio vedere, giallo, mai usato, in vita mia, un ombretto giallo, perché, cioè, è proprio giallo, lo potrei utilizzare come base, per altri ombretti, però, ora come ora, cioè, io non comprerei mai, un ombretto del genere, perché adesso che ho preso coscienza, so che non lo userei, mentre prima, ok, ne sentivo parlare, ok, me lo compro, poi lo metto lì, non lo uso più, cioè, il senso, di tutto questo, alla fine, insomma, non so, non so quale sia, sì, c'è in mezzo qualcosa, che non dovevo farvi vedere, però va bene, comunque, era giusto così, per fare, una riflessione, su quante, ma questo ragazzi, questo è pazzesco, cioè, magari mi starebbe anche bene, però, non mi sentirei più a mio agio, quindi no, va bene così, adesso non so quante ore, ci impiegherò, per togliere sta roba qui, perché sono tutti, tutte tinte, insomma, tutte robe che si aggrappano, proprio tanto, 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 e quindi, questo purpurì di roba, è il video di oggi, giusto per farci compagnia, insomma, voi ne fate a me, io spero di farne a voi, quindi, ci sentiamo, per il prossimo video, in cui, state in attesa, stay tuned, come si dice, perché, vi parlerò di due profumi, interessantissimi, vi auguro, ancora sto con gli occhiali appesi così, vi auguro un buon proseguimento di giornata, se lo state vedendo, nel pomeriggio, quando lo andrò a pubblicare, vi mando, muah, tanti tanti bacini, ci vediamo al prossimo video, ciao, 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 ciao,